Per creare stories spettacolari, per Instagram, Facebook o anche Whatsapp, ho selezionato per te tre applicazioni davvero interessanti e gratuite, a parte qualche piccola limitazione. Te le mostro dopo la sigla. Ben ritrovati immaginativi su questo canale dedicato a chi vuole raccontare e raccontarsi attraverso le immagini. Anche i video verticali, brevissimi e girati con il proprio smartphone, non fanno eccezioni. Quindi se vuoi essere dei nostri, iscriviti al canale. Oggi parlo di applicazioni fondamentalmente pensate per le stories, perché anche quelle, a 15 secondi alla volta, raccontano di te e del tuo progetto. Premetto, di applicazioni per creare stories ce ne sono un'infinità. Oggi ne ho selezionate alcune che, nonostante le limitazioni, hanno delle funzionalità gratuite che durano del tempo. Perché la maggior parte hanno delle versioni di prova che però scadono dopo 3, 5, 7 giorni. Dopodiché devi passare immediatamente al piano di un abbonamento. La prima applicazione che vediamo è Meitu. L'applicazione è sviluppata da una compagnia cinese che è specializzata in fotoritocco. In particolare in tutte quelle funzionalità che ti fanno sembrare più bella o più bello. Come vedi dalla schermata, le funzionalità sono tante, dal photo editing al collage, ma noi scorriamo fino in fondo e andiamo subito alle funzioni di video editing. Clicca lì sopra, importa tutte le clip e poi schiaccia Start. Questo è lo spazio di lavoro e come puoi vedere sotto, le funzionalità sono quelle classiche delle applicazioni per video editing. Quindi c'è il taglio, la rifinitura delle clip, c'è la possibilità di inserire filtri per la colorazione delle immagini, la possibilità di inserire musica e anche quella di aggiungere dei testi in sovraimpressione. Anche se non spaventatevi perché le anteprime sono tutte scritte in cinese. Le funzionalità interessanti però sono quelle che riguardano il beauty. Le prime due opzioni sono sbianca che fondamentalmente significa aggiungere luminosità alla tua pelle perché è un trucco utilizzato fin dai tempi della pellicola per togliere le imperfezioni dalla tua pelle. L'altra funzione è smooth, va invece a lavorare sui pixel all'interno del viso sempre per migliorare la compattezza e quindi come la tua pelle appare. Sotto l'altra scheda puoi andare a lavorare sulla forma del viso. Nella scheda parts puoi andare a lavorare specificatamente su alcune parti del viso perché il programma rileva automaticamente naso, bocca, occhi, zigomi e puoi andare ad esempio ad assottigliare il naso, ingrandire gli occhi, rimpolpare le labbra. Le altre funzioni interessanti sono quelle raggruppate sotto l'etichetta di stickers. Qui puoi trovare gli stickers classici e statici, cioè semplicemente delle grafiche da aggiungere in sovrapposizione al tuo video. Mentre invece gli stickers AR che sta per realtà aumentata sono quelli che si muovono in accordo con i movimenti della tua testa e del tuo viso. Sono tutti quegli effetti a cui ci hanno abituato le stories di Instagram e prima ancora di Snapchat o di Masquerade. Le funzionalità di Meitu sono molto più ampie rispetto a quelle che ti ho descritto ora. Sicuramente però la cosa interessante di questa applicazione è che è specializzata nel video da selfie, quello tipico delle stories e fa in modo che tu possa apparire più bella o più bello. In ogni caso la maggior parte di questi effetti potrebbero essere utilizzati semplicemente per ridurre la deformazione tipica della lente di un telefono da smartphone utilizzata in maniera molto molto ravvicinata che quindi va a deformare come noi ci vediamo normalmente nello specchio. Seconda applicazione è di un genere completamente diverso e si chiama Mojo. È una di quelle applicazioni che lavora con dei modelli preconfezionati per semplificarti la vita e tanta 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 grafica e animazioni. Questa è la schermata a cui ti trovi davanti appena apri l'applicazione. Come vedi ti mostra subito i modelli da cui partire, ci sono i modelli gratuiti sempre, i modelli in offerta e gratuiti solo per quella settimana e tantissimi modelli disponibili solo per chi sottoscrive il piano in abbonamento. Ora ti mostro come funziona un modello di esempio anche se ogni modello è leggermente diverso. Ad esempio il numero di immagini che puoi inserire è strettamente legato al tipo di modello che scegli. Una volta impostato il tuo progetto clicchi sul tasto pennello dove puoi andare a fare dei piccoli aggiustamenti sul template. Non sono mai delle vere e proprie modifiche ma puoi andare a scegliere per esempio il colore all'interno di una palette, il layout del testo oppure l'aggiunta di una determinata musica. La durata di un modello la puoi decidere tu ma non potrà mai superare i 60 secondi. Cliccando sul tasto più puoi andare ad aggiungere livelli in sovrapposizione oppure aggiungere un'altra pagina, quindi un altro modello dopo quello che è già completato. Aggiungendo livelli puoi andare a inserire ad esempio un testo in sovrapposizione laddove non è previsto un testo nel template che hai scelto oppure puoi andare ad aggiungere i classici stickers. Aggiungendo invece un'altra pagina ti permette di andare a creare un video più lungo e complesso. La versione gratuita ha delle funzionalità bloccate come ad esempio la possibilità di creare video orizzontali o quadrate e ha tanti contenuti non disponibili. Tutto sommato però ti permette di sperimentare e di creare delle stories carine con il limite che ti sovrappone una tutto sommato discreta scritta creato con Mojo. La terza applicazione è TikTok. Lo so che non è un'applicazione ma un social ma la verità è che TikTok ha incorporate delle stupende funzionalità di post produzione. Siccome i brevi video verticali sono il cuore delle piattaforme ha dei servizi e delle funzionalità di video editing che non ho trovato in nessun'altra piattaforma social. Il vantaggio è che quando crei un tuo contenuto lo puoi pubblicare contemporaneamente su TikTok e su altre piattaforme che supportano le stories come Instagram, Whatsapp e Facebook. Clicca immediatamente sul tasto più prima che ti perda via a guardare l'infinità di video di TikTok. A questo punto puoi scegliere tra un video da 15 secondi, da 60 secondi o MV. MV li guardiamo più tardi e noi scegliamo un video da 15 secondi. Una volta che hai importato le clip puoi andare a fare tutte quelle operazioni di editing classiche, taglio, rifinitura, riordino. Poi puoi andare ad applicare dei filtri per colorare tutto il tuo filmato ad esempio con l'effetto seppia oppure il viraggio al blu o quelle cose lì. E poi puoi andare ad inserire la musica. La cosa bellissima di TikTok è che nella libreria sono anche inserite dei brani musicali, quelli a cui noi siamo abituati, quelli che ascolti alla radio. Non i brani royalty free creati apposta per la post produzione video. Anche le stories di Instagram ti permettono di fare questa cosa, ma il lavoro di sincronizzazione audio-video è molto meno preciso di quello che puoi fare con TikTok. Con le funzioni che trovi in basso sullo schermo TikTok ti permette di andare ad inserire suoni, testi oppure stickers in alcuni punti specifici del tuo filmato. Ma è con nella cartella effetti dove inizi davvero a divertirti e trovi le funzionalità più stupefacenti di TikTok. Infatti di dentro ci sono una serie di effetti in sovrapposizioni, transizioni, divisioni dello schermo e chi più ne ha più ne metta. Con cui puoi andare a modificare e rendere il tuo video più interessante. La libreria è davvero vasta e in continuo aggiornamento e anzi il problema di entrare lì dentro è quello che ci puoi perdere davvero tante ore e alla fine creare un video che è un pochino troppo effettato. Quindi se ho un consiglio da darvi è quello di non esagerare. Faccio ora un passo indietro e andiamo a vedere la funzione MV che si trova subito dopo aver cliccato il tasto più lì sotto dove c'era crea un video da 15 secondi, 60 secondi o MV. Entrando in quel percorso TikTok ti mette a disposizione una serie di una trentina di modelli pensati per creare dei video con delle fotografie e quindi con delle animazioni ed effetti preimpostati. Una volta creata la bozza di modello entri poi nel percorso di editing e puoi comunque applicare testi, stickers e tutto quello che abbiamo già visto. E con TikTok ho finito questa carrellata di applicazioni per cercare di rendere le stories più spettacolari e avvincenti. Se il video ti è piaciuto lasciami il tuo like ma soprattutto puoi venire a cercarmi su Instagram per vedere come me la cavo con le stories in pratica. Ricordati che per la buona riuscita di un video il ritmo è fondamentale ma stai attento a non esagerare con i filtri, le grafiche e le animazioni perché l'effetto spot pubblicitario è dietro l'angolo. A questo punto puoi dirmi la tua nei commenti qua sotto su quali sono il tipo di stories che preferisci. Alle riflessioni su video efficaci e immagini in movimento è dedicata la newsletter mensile che puoi ricevere gratuitamente se mi lasci il tuo indirizzo mail qua di fianco. E ora è il momento di mettere in immagini la tua storia per creare la visibilità che meriti.